Pensare che la mente di una donna sia un qualcosa dove tu devi entrare per capire come fare ad ottenere le sue grazie comunque in generale a interessarle è un ragionamento sbagliato per quale ragione perché parti già da una posizione del fallito quello che si chiede io come faccio entrare nella mente per sedurla quello sta già dicendo io non sono sufficientemente bravo capace interessante eccetera quindi devo sedurle la mente può essere Oreste chiede perché stai facendo questa diretta allora perché poi ve lo spiego comunque ma intanto faccio una premessa può essere ovviamente in linea di massima che una persona voglia catturare le attenzioni della della donna a livello mentale non sappia come fare e va bene perché ci sono persone che per dono naturale per come sono cresciute sono più friendly quando hanno bisogno di sedurre di conquistare eccetera ci sono anche persone che per timidezza o delusioni o tante altre ragioni magari sono un po' meno avezze ad avere questo tipo di approccio e quindi hanno bisogno ovviamente di avere dei consigli che io adesso fra poco vi darò soprattutto l'ultimo che l'ho già detto in qualche diretta eccetera però comunque l'ultimo è il più importante ve lo tengo per ultimo così tenete un po' la curiosità però in linea di massima la l'atteggiamento e qua sta a voi ovviamente andare a capire se se sia il vostro caso o meno perché può anche essere che non sia il vostro caso l'atteggiamento di dire io devo fare delle azioni che lei gradisca per rientrare nelle sue attenzioni entrare nella sua mente sedurla questo è un atteggiamento da una persona che parte da una posizione ripeto di perdente di persona che non è sufficientemente in grado di certo può essere che sia onesto ma fa male fare quel tipo di ragionamento è molto più sano anziché dire come faccio a sedurre una donna dire quali sono le qualità che a una donna piacciono e quindi vedere se io le ho e al limite se e premetto se fanno parte di me quindi senza dovermi snaturare cerco di svilupparle per esempio oggi stavo facendo consulenza un ragazzo ho fatto un esempio ho detto se la nostra donna vuole che noi diventiamo un serial killer per piacerle ovviamente io faccio sempre gli esempi estremi noi non non vogliamo teoricamente implementare quel tipo di caratteristica pur di piacerle ok se invece per esempio la nostra donna ci dice o ci fa capire la donna che ci piace ci dice o ci fa capire che vorrebbe per esempio un uomo più sicuro più intraprendente più adesso vediamo queste caratteristiche che nominerò e l'uomo cioè voi vedete che non sono delle qualità che avete già sviluppato e vi piacerebbe sviluppare vi sentite che quella è la strada che vi può migliorare allora lo fate piano piano con un percorso trovate dei sistemi insomma poi quello lo vedete piano piano dicevo quindi le caratteristiche che adesso andremo a elencare vanno implementate se sono delle cose che una persona vuole implementare ok perché sono sane io vi adesso vi elenco delle caratteristiche sane che è utilissimo che voi andiate ad implementare ok quindi se sentite che vi possono tornare utili poi valuterete magari faremo delle dirette su come implementare queste cose eccetera per quale ragione non ha senso cercare anche di manipolare le donne per sedurre loro la mente fingendo questo lo dico sempre ma lo ripeto perché magari c'è qualcuno di nuovo e voglio dirlo non ha senso perché quando si ottiene un risultato fingendo è un risultato effimero quindi è un risultato che dura lì per lì e come dico sempre io va bene se il tuo obiettivo è quello di portarti a letto una e allora vuoi fingere perché non hai altre risorse non va bene però possiamo farlo andare bene se uno proprio vuole percorrere quella strada se uno ha bisogno di fare una serata allora fingo per una serata ottengo il risultato fine in linea di massimo io lo sconsiglio comunque però ripeto invece se una persona vuole un qualcosa di continuativo di serio di profondo fingere non ha senso quindi andare a dire per esempio adesso dico le donne si innamorano se uno ha un fiore blu sulla testa e a me non piace non è che mi vado a mettere il fiore blu sulla testa e a me non piace mi dà pure fastidio e mi sento una checca perché ho il fiore in testa sto facendo un esempio scemo per farvi capire e lo vado a fare ok perché prima o poi quel fiore mi darà fastidio mi stufferò lo toglierò ok quindi fingere una cosa che non ci appartiene non ha senso da nessuna parte mai grazie a tutti grazie a tutti